ben tornati in diretta buongiorno weekend sono le 10 e 31 ci sono tante tantissime cose da dire oggi e quindi do subito la parola e il buongiorno a daniello di maio buongiorno aniello buongiorno martina buongiorno weekend io sono contentissimo di iniziare l'anno così sono bello casato soprattutto sono da casa e quindi già di là sento gli odori della cucina in genere me lo chiedi a fine puntata oggi genovese oh che bello sei in solitaria però agnello inizi così l'anno 2024 e beh mi sembra ottimo ma come povera federica salutiamola influenzata anche lei come paola aspri quindi ciao federica un bacione buona guarigione riprenditi subito presto 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 perché buongiorno weekend ti aspetta per fortuna federica si è ripresa il problema è con la voce quindi poteva stare anche in video ma in silenzio quindi poteva fare un po tipo pesce complicato vabbè vabbè agnello allora abbiamo iniziato questo 2024 nel 2023 ci avete dato tantissimi consigli e il piacere mio è davvero che i telespettatori di buongiorno weekend li accolgano e leggano poi effettivamente i libri che proponete e quindi in questo 2024 che cosa ci dobbiamo aspettare abbiamo già un gennaio un febbraio molto ricchi però comunque parleremo di altre uscite che ci saranno nel corso dell'anno ovviamente le anticipazioni che hanno fatto sono poche però ci sono bei nomi per quest'anno e poi ci sono ovviamente gli anniversari da cui poi scaturiranno tante altre pubblicazioni perché c'è chi ripubblica qualche testo più vecchio che molte volte finisce per non venire ristampato fino agli anniversari e soprattutto ci saranno tante altre produzioni parallele come libri sui personaggi l'anno scorso l'abbiamo visto con con calvino che comunque hanno fatto hanno ripubblicato tutto quello che lui ha scritto fino alle lettere editoriali fino addirittura alle fascette o soltanto le trame scritte però da lui dei libri comunque la prova per le naudi e quindi a voglia scrivere anche soltanto piccoli pezzetti di dieci righe dietro un libro e quindi visto che calvino l'hanno davvero spolpato tanto l'anno scorso mi aspetterò la stessa cosa per certi autori di cui cade l'anniversario quest'anno e di cui parleremo comunque alla fine di questo di questo intervento di questa di questa rubrica però partiamo subito con le grandissime novità di questo gennaio gennaio è davvero ricco quest'anno e ci sono pezzi davvero da 90 un esempio è la prima uscita uscirà due giorni tra due giorni il nuovo libro di michela murgia libro postumo si chiama dare la vita è sempre di rizzoli e sono davvero curioso anche perché michela murgia da saggista mi piace ancora di più e in questo saggio parlerà principalmente della famiglia non tradizionale e del fatto che comunque anche se non si è genitori di sangue c'è comunque modo di creare ciò che viene definita poi famiglia senza che sia come tutte le altre anzi l'importante che ci sia un amore di fondo per poter portare avanti una famiglia ed è quello che conta qui parla proprio di come costruire come si può costruire una famiglia del genere e quindi ho aspettative molto alte però per due giorni posso aspettare beh diciamo che sicuramente sarà acquistato da tantissime persone nell'immediato perché anche soltanto appunto la curiosità di leggere un libro appunto pensato e dedicato nell'ultimo periodo della sua importantissima vita insomma è sicuramente anche motivo di curiosità e e poi la bravura l'intelletto di questa donna meravigliosa che ci ha lasciato veramente troppo presto e è accattivante già di suo e quindi dobbiamo leggerlo e poi un tema estremamente attuale è un tema estremamente attuale del resto lei è era una delle maggiori intellettuali della della cultura italiana contemporanea sono molto curioso anche perché come come detto è scritto negli ultimi negli ultimi mesi lei comunque sapeva già cosa sarebbe successo con la sua malattia sapeva già di non avere troppo tempo e quindi sarà stato scritto sicuramente con una una passione energia le ultime energie la forza maggiore che si può tirare quella che c'è proprio alla fine prima della della dirittura d'arrivo e immagino appunto quanto possa essere pieno non solo di contenuti come per tutti i suoi testi ma anche pieno di forze di dispersanti sicuramente poi così come lo era anche prima della della malattia ovviamente e quanto è bello anche pensare che nel finire della sua vita invece stava pensando a dare vita a qualcosa e a qualcos'altro e a parlare del dare vita rispetto a invece a al morire è molto poetico e vabbè intenso sicuramente come come è una persona unica unica assolutamente e viva sempre michela murgia lo stesso giorno però visto che comunque il mondo è bello perché vario sicuramente i fan del giallo avranno pane per loro denti perché lo stesso giorno sempre trato giorni il 9 uscirà il nuovo libro di manzini manzini è tra i scrittori tra i giallisti più apprezzati italiani molte volte nelle classifiche si trova subito voca milleri che tuttora è sempre in alto nelle nelle classifiche e specialmente di genere e antonio manzini esce con il suo romanzo tutti i particolari in cronaca io sono curioso ovviamente anche di questo in realtà sono curioso di tutti quanti libri che che usciranno questo gennaio è un generale davvero interessante questo giallo mi piace soprattutto perché non è un giallo di di azione anzi molte parti del del libro si svolgono invece nell'archivio nell'archivio del tribunale e quindi noi lavoreremo di di fantasia insieme a questo archivista che cercherà informazioni in continuazione cercherà di far quadrare i conti tra i vari casi che molte volte finiscono tra le carte che finiranno al macero o appunto nelle parti più recondite dell'archivio si finirà sempre per non collegare cose che avrebbero portato invece a una risoluzione di un caso come protagonista di un giallo questo cappai e lavora per per l'archivistica sarà sicuramente particolare sicuramente inedito per per un giallo dove tendenzialmente abbiamo personaggi molto più molto più rock diciamo non accade abbiamo rocco schiavone della sua produzione che è totalmente fuori da ogni schema in effetti sì allora però quindi è da consigliare a per esempio banalmente la mia conquilina ama i gialli ok le ho regalato stefano vicario re degli stracci se non ricordo male ok l'ha apprezzato potrebbe apprezzare anche chissà vabbè non l'avete anche non l'abbiamo ancora letto però comunque come stile di scrittura e tutto il resto potrebbe come stile di scrittura sicuramente rimanda anche a vicario perché la scrittura di manzini è molto cinematografica quindi anche questa è una scrittura che puoi immaginare e soprattutto se le è piaciuto un protagonista così particolare come quello dei re degli stracci sicuramente le potrà piacere anche una un altro protagonista molto particolare e fuori dagli schemi come era quello di vicario ok ok sì lei ha apprezzato particolarmente la scrittura molto cinematografica detto si vede che è un regista insomma e quindi proprio le descrizioni vedeva tutto ha visto proprio tutti i personaggi quindi interessante anche tutti i particolari in cronaca perché anche il titolo è molto interessante poi però ok una novità ma tu l'hai letto in anteprima la prossima proposta sì l'ho letto mia ma dove sei andato nella stamperia a leggerlo oh addirittura addirittura esce il 12 gennaio sì 12 gennaio esce Marabecca di Viola di Grado già avevo avuto modo di apprezzarla molto Federica neanche parlato su book writer del suo precedente romanzo fame blu e Viola di Grado riesce a parlare di di gabbia di persone in gabbia persone che non riescono ad uscire da da dei propri modi di di vivere che finiscono proprio per per distruggere ciò che è anzi la vita mentre i personaggi sono convinti di vivere eh in quei momenti e questo romanzo è ancora più particolare eh vi dico giusto l'inizio ehm la la protagonista eh fa un incidente con il suo ragazzo che eh finisce in coma prima dell'incidente però i due si erano lasciati lei aveva lasciato lui e lei quindi sta bene lui no e la situazione è sempre più complicata perché lei finalmente era riuscita ad allontanarsi da una persona con cui non voleva più stare che anzi eh la bloccava in tutto quello che lei voleva fare in tutto quello che era eh il suo istinto per per la vita il modo in cui voleva vivere e alla fine si ritrova ad essere alla sopravvissuta di tutto questo ma con questa spada di Damocle perché il il ragazzo Igor potrebbe comunque svegliarsi e non è un coma irreversibile e quindi lei eh lotta con se stessa conosce anche la persona eh con cui avevano fatto l'incidente la persona che si era distratta eh che che poi li ha portati appunto eh fuori strada li ha portati eh fino all'ospedale e e si creano anche dei legami lì legami particolari e il filo conduttore di tutto questo romanzo appunto la la Mara Becca che è un personaggio del folklore siciliano è una donna che vive nel buio e ti trascina nel buio per farti diventare il buio personaggio folcloristico che nasce per non far avvicinare i bambini ai pozzi però in effetti eh è uno di quei personaggi che puoi risfruttare anche nella vita reale eh la persona che finisce per eh per annientarti per annullarti è un po' una Mara Becca e in questo romanzo ce ne sono diverse di Mara Becca eh già nella prima descrizione che hai fatto insomma può fare intuire che magari questo fidanzato sia un po' nella fase prima dell'incidente forse eh sì ma non solo davvero chiunque si incontra può eh finire per risucchiarti ogni energia per eh per toglierti quella quello spirito vitale che uno invece vorrebbe mantenere quantomeno eh viola di grado è fantastica nel descrivere queste queste personalità eh anche nel suo presente romanzo eh ci sono molti elementi eh in comune e quindi lo aspettavo davvero tanto poi viola di grado giovanissima eh pubblicato il primo romanzo eh a una ventina d'anni che è andato molto forte pubblicato in un sacco di lingue e aveva anche un titolo bellissimo eh che si chiama eh settanta acrilico un attimo ecco settanta acrilico trentalana già come titolo mi aveva conquistato con il primo romanzo eh infatti è una di quelle autrici che devo assolutamente recuperare bello bello quindi buoni propositi per il 2024 scoprire o riscoprire viola di grado e poi invece il 7 febbraio arriviamo arriviamo in quel mese meraviglioso il 7 febbraio che cosa esce? Ah c'è un esordio che è un giornalista e il libro si chiama Come uccidere la tua anima gemella che bello quando l'amore unisce di questo romanzo sono molto incuriosito soprattutto perché lo sai a noi piace tanto il il black humor e quando il black humor riesce ad avere anche intorno una trama molto vincente molto forte eh che davvero può funzionare è lì eh io non posso che eh che andare e e dare i miei soldi aggiunti perché se li merita e quanti e in questo esordio scusami e quanti soldi non so perché c'è qualcuno qui con la macchina eh che con la radio accesa eh alla radio forse si sente anche buongiorno weekend in realtà credo ancora si senta vabbè sì sì si poteva sentire un tempo comunque hanno spento la radio ok bravi perché stanno sentendo buongiorno weekend dicevo quanti soldi dai alle librerie anche quindi come questo black humor che comunque potrebbe stare a significare anche qualcos'altro chissà siamo curiosi anche soltanto abbiamo anche parlato di come uccidere la tua famiglia infatti quello mi ricordavo e qui comunque è quella la parte di fondo che finirà per creare una trama eh c'è quindi qualcuno che sta seguendo una traccia e in questo caso eh il protagonista va eh con app di di dating eh a degli incontri e col tempo però tutte queste persone che verranno incontrate faranno brutte fini e quindi c'è qualcuno che sta seguendo eh il protagonista e finirà quindi per creare qualcosa intorno a lui chissà cosa e lo leggeremo lo scopriremo poi ci scrivono Agnello lo deve regalare a Federica il libro giunto ma infatti è sicuramente tra quelli io direi a Federica di comprarselo se proprio perché se poi lo regala il rischio è che anche Agnello lo legga insomma meglio meglio che compratevelo in maniera singola non devo scoprire poi come lei vorrà ammazzare la sua anima gemella quindi però non è un manuale chiariamo al pubblico non dovrebbe essere un manuale anche stavolta non dovrebbe essere un manuale io ogni volta lo dico perché eh ogni anno letterario ha le sue mode eh ha le le sue cliché che vanno avanti l'anno scorso c'erano davvero tante forse un po' troppe biografie eh abbiamo fatto due anni di biografie eh questo filone invece mi piace un sacco il come uccidere eccetera eccetera eh infatti è uscito come uccidere il tuo capo di cui tra l'altro c'era c'erano già un paio di film pensa che in un secret santa qui nella nostra cosano media group è stato regalato come uccidere il tuo capo eh quindi qualcuno dovrebbe far capire che escono certi regali è un secret però è un secret santa quindi non si sa chi l'ha regalato si sa soltanto il destinatario tra l'altro bello mi è piaciuto bello bel regalo bello bello ah sì il libro lo leggo non ho ancora parlato nessun book writer però eh potremmo fare anche una puntata sul come uccidere eccetera eccetera bene eh casomai dopo la lettura di quest'altro volume va bene stavo per fare una battuta black però di black humor ma non te la farò in privato andiamo a no vabbè andiamo a alla prossima proposta che rispetta sempre quel periodo dell'anno che è il più bello il meraviglioso l'unico momento che vale la pena vivere durante l'anno cioè il feste di Sanremo infatti anche questo io dovrò comprarlo subito eh anzi io non vedo l'ora che esca per correre in libreria a prenderlo Ariston la scatola magica di Sanremo ora tu eh conosci molto bene eh tutto ciò che che ruota intorno a questa macchina magari eh comunque ne hai scritto sì 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 non so se se il pubblico lo sa ma comunque Martina e ci sei laureata sono laureata con una tesi sul nazionale popolare nell'accezione Gramsciana del termine nel festival di Sanremo 2018 che quanto mi piace dirlo che la gente dice ma ma veramente eh ma avrebbero dovuto contattarti comunque eh perché io so quanto impegno ci hai messo e soprattutto eh so quanto ami Sanremo so quanto amiamo Sanremo e quindi questo libro sarà imprescindibile per entrambi ma tu sai già qualcosa c'è un romanzo oppure è un manuale o comunque un qualcosa di più. Sono sia ricordi sia quindi sia esperienze vissute eh sia ciò che accadrà eh immagino ovviamente eh ho letto qualche eh qualche post di di Luca Mirati che è il secondo autore del del testo eh io sono molto incuriosito soprattutto da da tutto ciò che c'è dietro appunto perché il festival lo vedo sempre eh non mi perdo un minuto mi guardo qualsiasi cosa anche eh la rassegna stampa mi vado a vedere un po' il giorno dopo la conferenza stampa eh mi vado ogni volta eh ma io lo so che eh sotto Sanremo non è che durante Sanremo abbiamo visto anche diversi insieme se non sbaglio eh almeno uno sicuro forse anche più di uno però almeno tre insieme addirittura è vero perché tu pensi soltanto quando ci siamo visti e invece ci sono state anche altre volte è vero hai ragione hai ragione comunque è interessante anche perché il titolo la scatola magica di Sanremo cioè è forse più focalizzato sul proprio il teatro Ariston a questo immagino ipotizzo eh perché è effettivamente una scatola magica eh che porta tantissime persone ovviamente ha portato Sanremo questa cittadina piccolissima della Liguria eh a diventare la una delle città più famose del mondo perché in effetti se ne parla anche all'estero eh e quindi forse è più focalizzato proprio sia appunto sul livello storico aneddoti eccetera eccetera esatto però ovviamente quando tu hai un luogo come l'Ariston dove si fa Sanremo tanti aneddoti saranno su Sanremo e beh beh certo il festival che meraviglia non vedo l'ora da leggere allora però poi hai detto che ci sono delle ehm delle altre insomma degli anniversari o comunque delle uscite di cui ancora si sa un pochino meno e penso a sì noi sappiamo pochissimo eh non so se tu cosa vuoi eh di quale vuoi parlare perché comunque io ti ho accennato a quello che di cui vorrei parlare ma un ordine reale non c'è abbiamo tre grandi eh autori che ehm che avranno finalmente di nuovo un loro libro eh in libreria è vero c'è Stephen King che in libreria c'è sempre eh esce un escono uno due libri l'anno è mai uscito dalla libreria e lo so però adesso c'è il ritorno ai racconti eh quest'anno uscirà un un libro di dodici racconti di Stephen King dovrebbe uscire a maggio e io anche di quello non vedo l'ora anche perché di King preferisco più i racconti che non i romanzi eh perché molte volte il il racconto riesce a darti quella quella pennellata e basta senza farti entrare davvero in una storia così horror devo ammettere che io leggo poco horror e nel racconto eh me lo godo di più molto di più giusto è interessante anche se comunque poi nello scrivere breve si possono dire tante cose quindi eh sono più concentrate insomma interessante anche come forma di scrittura poi c'è Marquez c'è Marquez a dieci anni dalla scomparsa esce l'inedito di Marquez e io sono curiosissimo si chiama ci vediamo ad agosto eh della storia di una di una donna che va a trovare come ci vediamo ad agosto ma uscirà a marzo almeno così e sì e purtroppo non ci pensano sarebbe stato una grande sarebbe stato molto più interessante vabbè metterlo agosto però c'è forse un motivo ovvero non è una storia estiva eh perché la la protagonista va a trovare ad agosto eh la madre ogni anno al cimitero e ed è da lì che che nasce il il nucleo della storia e in effetti poco estiva come storia cioè ci sta bene per per marzo che ancora un po' piovoso e ancora un po' di e quindi rimani a casa a leggerti e goderti eh un ultimo Marquez eh non pensavo ci fosse un inedito invece sono contento di poterlo eh finalmente eh leggere eh avere presto prestissimo appunto a marzo a marzo e c'è anche un'altra scusami eh Santa Croce Isabella Santa Croce di di cui abbiamo parlato abbiamo parlato di Zo che è uno dei miei romanzi italiani preferiti e finalmente ritorna eh in libreria infatti l'altra volta mi ero lamentato di questo che purtroppo eh di Isabella Santa Croce non si trovano eh anche i romanzi passati e però il romanzo nuovo deve esserci per forza in libreria eh io ho cercato un sacco di informazioni sono un paio di mesi che cerco informazioni al riguardo perché avevo visto da una storia del saggiatore che avevano preso i diritti della Santa Croce e purtroppo eserò tanto il titolo eh che è Magnificat Amour e può essere ancora non si sa sì esatto non si può può essere tutto niente chissà poi hai detto sì la Santa Croce è particolare potrebbe parlare davvero di qualsiasi cosa eh ho letto la metà dei libri e ogni volta è una sorpresa eh il titolo eh poi comunque la trama disattende poi quello che racconta il titolo e tutto ciò che succede finisce per essere totalmente fuori dagli schemi è totalmente imprevedibile ok pochi minuti per quelle famose insomma gli anniversari che abbiamo detto all'inizio abbiamo annunciato all'inizio iniziamo da Marco Polo a Marco Polo perché sì in effetti sono tanti anni sono settecento anni eh per per Marco Polo e quindi per fortuna esce una nuova edizione del del milione di Marco Polo che ovviamente è il suo testo più famoso eh è il suo lungo viaggio dove ci fa scoprire all'Oriente e però eh questa è una nuova traduzione eh fatta da ovviamente quando ci si trova davanti a libri così eh così anziani per non dire vecchi perché comunque c'ha un bel po' di eh qualche secolo ce l'ha eh in effetti la lingua finisce per invecchiare e portare ancora più indietro eh quel libro e soprattutto noi abbiamo eh un corpus sterminato di eh di volumi eh con eh il milione fatti da tanti copisti e questo dovrebbe essere tratto da uno dei manoscritti più attendibili eh sul del milione e quindi Marsilio ha fatto un'operazione eh fantastica poi perché un libro del genere è stato fondante per la letteratura europea e e in effetti c'è c'è bisogno comunque di portare ancora avanti certi tipi di letteratura e ovviamente non è l'unico anniversario eh quello di Marco Polo è semplicemente quello eh quello più 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 grande perché settecento anni non si compiono tutti eh tutti gli anni eh però abbiamo anche eh due centenari ovvero eh Lienin su cui ho visto che già stanno scrivendo un sacco di saggi ma sono tutto Kafka eh quindi in questo anno vi parleremo di Kafka eh diffusamente. Metamorfosi, lettera al padre e chi più ne ha eh ne metta. Dobbiamo chiudere velocemente anche cento anni di noi. No sì cento anni di noi Marti. Chi è te? Eh noi di Zamiatin che è uno di quei eh libri che ha ricreato eh lucronia eh ha ricreato quel mondo in cui eh a un certo punto la storia cambia ma da un semplice dettaglio e tutto diventerà sempre più particolare, sempre più strano e soprattutto noi di Zamiatin è il libro da cui nasce il 1984. Vabbè. Ma ne parleremo. Ne parleremo con più calma. Starei ora a sentire Agnello super trasmissione. Ci piace un sacco. Federica guarisci presto. Grazie. Firmatevi sempre così vi possiamo anche ringraziare. Agnello Di Maio, Bookrider, seguiteli sui social ovunque. Grazie. Come sempre buona domenica. Buona domenica. Un abbraccio. Grazie mille. Grazie anche alla squadra Daniele, Lorenzo, Beatrice che anche nonostante le poche ore di sonno sono qui staccano visti a lavorare per Buongiorno Weekend. Io ringrazio anche voi per tutto il vostro affetto e i vostri messaggi. L'appuntamento è ovviamente con Buongiorno Weekend sabato prossimo alle ore nove puntuali. Ciao buona domenica. Grazie.